Ciao a tutti, eccoci qua col video speciale, un video speciale sulla Premier League, sapete quanto io ami il calcio inglese in maniera sproporzionata, chi mi conosce da anni lo sa, sa anche quant'è che volevo portare questo format qui, ovviamente sarà un caso unico e raro, nel senso c'è la sosta, ne approfittiamo, vediamo un po' come va, è ovvio che se dovesse andare molto bene e vedo che vi interessa, si cerca di portarlo almeno una volta al mese, ormai è finito il campionato, però ecco, non sarà come il recap di A e di B, nel senso lo faremo molto meno spesso, ma se avesse successo mi farebbe veramente piacere adorando questo campionato, vediamo, vediamo un po' come va appunto, eccoci qua, per chi mi conoscesse sono Montonelli, parlo di calcio a 360 gradi, serie A, serie B, in questo caso calcio internazionale, Coppa Europea, nazionale, calcio mercato eccetera eccetera eccetera, tifo Atalanta come da dietro vedete, ma cerco sempre di essere sportivo e obiettivo in tutte le mie analisi, Andiamo appunto, andiamo a vedere questo campionato che ha molte squadre con partite in meno, quindi dobbiamo andare ad analizzare anche quel dettaglio lì. Allora, è una Premier che vede all'ultimo posto lo Sheffield United, è uno Sheffield che mi sentirei di dire è quasi spacciato, però è anche vero che ci sono otto punti da lei alla Quartutti, ma che vorrebbe dire salvezza, stanno penalizzando un sacco di squadre, Leverton è stato penalizzato appunto di sei punti per decisione della federazione, per violazioni finanziarie, anche il Nottingham Forest per lo stesso motivo quattro punti di penalizzazione, questo ci tengo a dirvelo prima ancora che appunto analizziamo la classifica, perché appunto per via di questi quattro punti di penalizzazione il Nottingham Forest adesso sarebbe in questo momento a retrocesso e il Luton Town magicamente salvo. Allora, Sheffield appunto, ventesima posizione, solo tre vittorie, ben 74 gol subiti, quindi Salernitana non ti allarmare, c'è chi fa peggio, 28 partite appunto, tre vittorie, 5 pareggi, ben 20 sconfitte, 24 gol fatti, 74 appunto gol subiti, una vittoria, 3 sconfitte e un pareggio nell'ultima giornata contro il Bormuz 2-2. Diciannovesima posizione Barley, 29 partite, invece lo Sheffield appunto 28, 4 vittorie, 5 pareggi, 20 sconfitte, anche Barley nello scherza con i gol subiti, 63 a fronte dei 29 fatti, 3 sconfitte, un pareggio e una vittoria nell'ultima, una vittoria che dà un po' più di speranza verso quel traguardo salvezza, soprattutto ripeto con queste penalizzazioni, queste squadre un po' si sono, come si dice, ringalluzzite, vedremo, vedremo, comunque ottima la vittoria contro il Brentford, che inguaia un po' il Brentford, ma appunto dà qualche speranza al Barley, ha 17 punti, diciannovesima posizione. Diciannovesima posizione, anche lei con 29 partite giocate, il Nottingham Forest, anche lui, in realtà, il Nottingham Forest, 6 vittorie, 7 pareggi, 16 sconfitte, 51 gol subiti, vedete quanto cavolo si segna in Premier League, è pieno di gol subiti, 35 gol fatti, una vittoria, 3 sconfitte e un pareggio nell'ultima, 21 punti, è un Nottingham che sicuramente questi quattro punti di penalizzazione la tengono legata in questa zona relegata, in questa zona salvezza da qui alla fine del campionato, perché appunto quattro punti di penalizzazione pesano come un macigno in questo momento, è vero, il Newton è più scarso, quindi teoricamente dovrebbero salvarsi, ma vediamo, vediamo appunto. Quindi, diciannovesima posizione appunto per il Nottingham Forest, a 21, sopra, con 29 partite, anche lui, quindi tutte quelle che erano da giocare le ha giocate, il Newton Town, che è uno stadio, ragazzi, fantastico, devi passare in mezzo alle case per andare allo stadio, è una cosa fantastica, se vi capita, andate a cercare, se non lo sapete, andate a cercare su Google, appunto, eccetera, guardate oggi lo stile british del monte, no? Anche se in realtà ho la felpa degli Inter Miami, ma va bene, detto questo, appunto, il Newton, bellissimo stadio, caratteristico, tipico inglese, veramente, passi in mezzo ai balconi, alle finestre della gente, giardino delle persone, andatelo a vedere, io simpatizzo un po' per queste cose qui, e quindi per il Newton, che in questo momento sarebbe salvo, 60 gol subiti, anche lui, non scherza, 42 gol fatti, 5 vittorie, 7 pareggi, 17 sconfitte, ruolino pesante nelle ultime 5, perché ne ha perse 3, ne ha pareggiate 2, di cui l'ultima, appunto, contro il Nottingham Forest, capite, questa partita, se la penalizzazione fosse arrivata un pelo prima, cosa sarebbe successo, perché nell'ultimo weekend si è giocato all'FA Cup, e quindi la Premier è ferma da una quindicina di giorni. Everton, sedicesima posizione, l'Everton, diciamo che è l'eterna incompiuta, è una squadra che non riesce più a essere quella bella squadra che era negli anni d'oro, sedicesima posizione, 28 punti, 8 vittorie, 7 pareggi, 13 sconfitte, 29 gol fatti, 39 gol subiti, anche esso 3 sconfitte nelle ultime 5 e 2 pareggi, una sconfitta, due pareggi e due sconfitte, appunto, 25 punti per l'Everton, sedicesima posizione, è un Everton che, sì, l'ultima la persa col Manchester United, ci sta per carità, però ecco, è un Everton da cui ti aspetti qualcosa di più per la storia, per la fama, per tante cose, e 25 punti, deve comunque guardarsi dalle spalle. Quindicesima posizione, il Brentford, Brentford che sta facendo bene, perché comunque sia, è una matricola terribile, è una bella squadrina, a 26 punti, 7 vittorie, 5 pareggi, 17 sconfitte, 41 gol fatti, 54 subiti, 29 partite giocate, l'Everton 28, non so se l'avevo detto, è un Brentford che però sta anche lei facendo male, perché ha perso le ultime due, ne ha pareggiata una alla terza ultima e ha perso le altre due, nelle ultime 5, quindi 4 sconfitte, che quando perdi così tante partite di fila devi stare attento, perché là di dietro si fa presto a essere risucchiati, lo dico quando faccio il recap di A, quando dico il recap di B, ed è vero ragazzi, perché quando poi la terza ultima ha 21 punti e tu nei 26, bisogna sempre guardarsi alle spalle, almeno fino a due giornate dal termine, poi vedremo. Quindi Brentford, quindicesima posizione. Quattordicesima posizione per il Crystal Palace, 28 partite giocate, 7 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte, è un Crystal Palace che sta facendo il suo campionato easy, nel senso che non ti aspettavi tanto di diverso dal Crystal Palace, comunque una salvezza abbastanza tranquilla, 33 gol fatti, 48 subiti, sta facendo benino, un campionato senza infamia, senza lode, nelle ultime 5, una persa, una pareggiata, non ha vinto, un'altra persa e il pareggio appunto nell'ultima giocata contro il Luton Town, ben appunto. Quindi, ne avevo già detto prima, per il Luton. Quindi è un Crystal Palace che deve salvarsi e lo sta facendo abbastanza tranquillamente. Bormuz, scusate la mia pronuncia un po' infame, tredicesima posizione, 28 partite anche per loro, quindi una partita in meno, 9 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte, 41 gol fatti, 52 subiti, nelle ultime 5 ne ha vinte due, pareggiate due e persa una, di cui le ultime 3, 3 risultati utili consecutivi, con due vittorie e un pareggio, di cui l'ultima vittoria appunto contro il Luton, 4 a 3, una posizione buona per il Bormuz, mi sento di dirlo, 35 punti, 6 a metà classifica, è un po' tipo il nostro, direi Monza, ma no, diciamo Genoa, è tipo il Genoa, nel senso che non sei né pericolante dietro né troppo distante davanti, anche se qui in realtà la distanza è ben più grande di quella che abbiamo in Serie A. E quindi tredicesima posizione, appunto, 35 punti, 41 gol fatti, 52 subiti. dodicesima posizione per il Fulham, 29 partite giocate, quindi le ha giocate tutte, è un Fulham che alterna vittoria sconfitte nelle ultime 5, ne ha vinte 3, ne ha persa due, l'ultima appunto la vinta contro il Tottenham per ben 3 a 0, uno dei youtuber che seguo con più ammirazione, comunque mi piace di più appunto il tifoso del Tottenham, se cercate, è il più famoso, quindi lo trovate, non faccio pubblicità gratuite perché mai guarderà questo video, comunque è un ragazzo che mi piace veramente tanto, che porta appunto le partite del Tottenham ed era disperato di questo 3 a 0, appunto subito dal Fulham, Fulham che appunto 11 vittorie, 5 pareggi, 13 sconfitte, 43 gol fatti, 44 subiti, quindi tutto nella media, vediamo, 43-44, quindi c'è 38 punti, dodicesima posizione, direi tranquilla. Undicesima posizione per un'altra che delude, delude sempre, delude ultimamente tanto, davvero tanto negli ultimi anni, soprattutto visti i soldi spesi, è vero, ha due partite in meno, quindi può sicuramente recuperare la china, dovesse vincerle tutte e due, andrebbe a 45, Chelsea che sta deludendo davvero tanto, è vero, nelle ultime non ha fatto neanche malissimo, ne ha persa una, ne ha vinta una, ne ha pareggiate due e ha vinto l'ultima. È un Chelsea che però, ripeto, gli aspetti molto di più, visto i soldi spesi in questi anni, visto comunque il bravazione della squadra, ha vinto 3-2 contro il Newcastle nell'ultima, tra l'altro Newcastle quindi sta davanti, quindi è una vittoria importante per recuperare dei punti sopra il Newcastle appunto, 11 vittorie, 6 pareggi, 10 sconfitte, 47 gol fatti, 45 subiti, è un Chelsea da cui ci si aspetta sicuramente di più, però, ripeto, ha due partite in meno, quindi vedremo, decima posizione per il Newcastle, il Newcastle 28 giocate, 12 vinte, 4 pareggiate, 12 perse, quindi 12 vinte, 12 perse, 59 gol fatti, ecco, questa differenzialità va un po' meglio, e 48 subiti. Una vittoria, un pareggio, una sconfitta, una vittoria e una sconfitta appunto contro il Chelsea nell'ultima, un Newcastle che ha appunto una partita in meno, Newcastle che sta facendo un buon campionato, altra squadra che comunque investe parecchio, ha parecchi soldi, quindi vedremo, ha questa un po' fama, diciamo, di molti che non vogliono andarci a giocare, perché? Perché sanno che le altre sono troppo più forti, quindi ok, soldi, ok, quello che vuoi, però non ha ancora questo richiamo, diciamo così, verso tanti calciatori che hanno appunto rifiutato le destinazioni. Wolves, Wolverhampton, non ho a posizione, altra squadra che non mi sta assolutamente antipatica, anzi mi piacciono i colori sociali, mi piace il logo e tanto tanto altro, tra l'altro il Barmouth, ragazzi, non ve l'ho detto prima, è quello col simbolo più simile all'Atalanta, perché comunque ha una ragazza che peli al vento, non che corre, ma che assomiglia comunque l'Atalanta, quindi per cui Barmouth sicuramente squadra simpatia in Premier per il Monta, perché assomiglia molto alla sua Dea. E l'altro è l'Uolverhampton, ma perché proprio mi piace al livello di colori, maglia, eccetera, non per altro. È un Wolverhampton che ha appunto 28 partite giocate, 12 vittorie, solo 5 pareggi, quindi buono, e 11 sconfitte, 42 gol fatti, 44 subiti, scusate, nelle ultime 5 ne ha persa una, ne ha vinte due, ne ha personata, ne ha vinta un'altra ancora, quindi 3 vittorie, 2 sconfitte, ha vinto contro il Fulham nell'ultima 2-1, 41 punti, un ottimo campionato, secondo me, per il Wolverhampton. All'ottavo posto il Brighton di De Zerbi, De Zerbi che da buon Atalantino non potrà mai star simpatico, essendo bresciano e tifoso del Brescia, però è un ottimo allenatore, qui ragazzi sempre dobbiamo essere obiettivi, è un ottimo allenatore, gli hanno un po' smantellato la squadra, a gennaio non gli hanno comprato praticamente nessuno, è arrivato a Roma nella partita d'andata con 15 giocatori, se non sbaglio, contati tra infortuni e tutto, ha mandato un messaggio alla società, ovviamente facendo capire che se ne andrà a fine stagione, dicendo anche che da stoltranno bisogna che si svegliano nel mercato di gennaio, se non vogliono ridursi a prendere 4 per dalla Roma, è un Brighton che senza infame, senza lode, ottava posizione, 42 punti, sì ti puoi aspettare di più, soprattutto visto le belle parole per De Zerbi da mezzo mondo, però anche lui poveretto non ha la bacchetta magica, quindi quando gli vendi in più forti si fanno male altri, insomma non può fare più di così, 11 vittorie, 9 pareggi, 8 sconfitte, 28 partite, non mi ricordo se ve l'ho detto, 50 gol fatti, 44 subiti, una sconfitta, una vittoria, un pareggio, una sconfitta e una vittoria nell'ultima contro il Nottingham Forest di Corto Muso, 1-0, è un Brighton che ultimamente subisce, ma segna davvero pochissimo, segna col contagocce e non è una cosa di cui sei abituato dal Brighton, perché addirittura ha preso 5 palle dello Sheffield in casa, l'ultima in classifica, cioè capite che comunque il Brighton è una squadra che è sempre abituato a giocare bene, a fare tanti gol e ultimamente non lo sta facendo. Settima posizione per il West Ham, West Ham che ovviamente per ovvi motivi ti fanno Milwall, io non posso simpatizzare, Milwall stanno facendo i lavori, moratori di fianco, non posso farci niente, il Milwall ovviamente è in Championship, West Ham settima posizione, 29 partite giocate, 12 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, 46 gol fatti, 50 subiti, è un West Ham in forma, nel senso che comunque è in serie positiva, nelle ultime 4, nelle vinte 2, nelle pareggiate 2 e nelle ultime 5 appunto è una persa 1, è un ottimo Indian Forest, poi ha vinto le altre 2 con Brentford ed Everton e poi ha pareggiato le ultime 2 appunto contro il Burnley e l'ultima in casa contro l'Aston Villa, di cui parleremo tra poco. Quindi settima posizione, può ancora ambire alla Coppa e non lo so, perché bisogna vedere anche lì quante vanno in Champions, comunque per ora c'è, dovrebbe essere in posizione Europa League, Conference League, anche lì dobbiamo vedere in quante vanno su, comunque così è, quindi per ora è in una buona posizione. Sesta posizione per il Manchester United, The Island, 28 partite giocate, West Ham 29, non mi ricordo se l'avevo detto, 15 vittorie, solo 2 pareggi per il Manchester United e ben 11 sconfitte, pareggio a livello di gol fatti e subiti, 39 uguale, le ultime 5 ne ha vinte 3 e ne ha pareggiate 2, di cui l'ultima vitta appunto contro l'Everton 2 a 0, sicuramente le sconfitte nel derby col Manchester City e nella partita interna contro il Fulham hanno lasciato un po' il segno, però si è rifatto appunto con questa vittoria, 47 punti per i Manchester United e The Island che ha iniziato a segnare, ci ha messo un po' a carburare ma da quando è partito, complimenti, tra l'altro nell'ultima partita vinta contro il Liverpool in FK ha segnato anche Diallo, che è l'ex Traoré si chiamava, che giocava nell'Atalanta, che se non sbaglio gli avevamo venduto per una quarantina di milioni, una roba del genere, quindi bene bene la nostra plus valenza ha fatto gol. Tottenham, quinta posizione, appunto 28 partite giocate, 1 in meno, 16 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte, 59 gol fatti, 42 subiti, è un Tottenham che è un po' una delusione, diciamo, è sì in zona che potremmo in questo momento andare in Champions League, però è un Tottenham che non riesce mai a dare continuità, nelle ultime 5, nelle 23, ne ha perse 2, scusate, 53 punti, è vero, la Stonevilla è a 56, quindi tutto è possibile, ma io do più fiducia alla Stonevilla che al Tottenham in questo momento, ma poi vi spiego anche il perché. 53 punti, appunto, è un Tottenham che deve fare qualcosa di più, sicuramente l'accessione di Kane un po' ha pesato, l'ultima partita ha perso appunto 3-0 contro il Fulham, una sconfitta abbastanza roboante, visto soprattutto che aveva vinto poi in casa della Stonevilla per 4-0 in quella precedente e ti aspettavi qualcosa di più. E appunto in quarta posizione c'è la Stonevilla, la Stonevilla del mio allenatore preferito, di quello che sogno un giorno nella panchina dell'Atalanta, credo che rimarra tale, ovvero Emery, 29 partite giocate, 17 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte, 60 gol fatti, 42 subiti, è un Emery un po' in flessione nelle ultime due, è una Stonevilla in realtà, non un Emery, l'Emery team, 3 vittorie, una sconfitta e appunto il pareggio nell'ultima partita contro il West Ham, però è una Stonevilla che sta facendo un campionato della Madonna, quarta posizione Champions League, Emery quello che tocca trasforma in oro e comunque è una Stonevilla che insieme alla Fiorentina è favorita in Conference League, vedremo, adesso sicuramente si incontra il Lille, l'unica squadra più forte oltre a queste due in quella competizione sarà da vedere, ma Emery lo sapete è una vecchia volpe di Conference Europa League e soprattutto Europa League, insomma le sa portare almeno in finale le squadre e anche vincere, quindi vedremo cosa farà i Villans, cosa faranno appunto nel campionato e nelle Coppe Europee, è sicuramente un'ottima realtà e un'ennesima confermazione di un grande allenatore sottovalutato, ne abbiamo parlato anche nel video con Filippo il tifoso della Fiorentina, quindi andiamo a vedere appunto in terza posizione invece il City, 28 partite giocate, 19 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte, solo 3 sconfitte, 63 gol fatti e solo 28 gol subiti, ma da qui in su sono tutte difese veramente forti perché comunque c'è il Liverpool, c'è l'Arsen, andiamo con ordine, è un City che nelle ultime 5 ne ha pareggiate 2, vinte 3, l'ultima l'ha pareggiata in casa del Liverpool, quindi ci sta, è la squadra che gli sta sopra, è ovvio che se vinceva lo scavalcava, però comunque sia, sono due squadre che se la giocano sempre, quindi per cui è un City in terza posizione a 63 punti, ma capite che qui ragazzi ci sono 3 squadre in un punto per il titolo, è uno dei, secondo me è il campionato più in bilico fino alla fine, anche quest'anno, non come in Italia che è già finito, o in Francia eccetera, 64 punti la prima, 64 la seconda e 63 la terza, è un campionato fantastico, da seguire sempre attentamente quando si può, ovviamente ripeto vedremo come va questo video qui, seconda posizione per il Liverpool, 28 partita anche per lui, 28 tutte e 3, Arsenal, Liverpool e Manchester City che sono le prime 3, 28, 19 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte, 65 gol fatti, 65 gol fatti, non è il miglior attacco, ma quasi insieme appunto a quello del City e a quello dell'Arsenal, 26 gol subiti, quindi vedete 2 in meno del City, poi più andiamo su più tutti i numeri combaciano come devono combaciare, 4 vittorie nelle ultime 5, l'ultima la pareggiata, veniva appunto da 4 vittorie consecutive, il Liverpool di Klopp che ha annunciato l'addio a fine stagione, 64 punti, pareggiato appunto nell'ultima contro il City, è sicuramente un Liverpool che dovremmo affrontare, noi là, vedremo come andrà, nulla è impossibile, sicuramente sarà un Everest da scalare, partiamo sfavoritissimi per carità, ma non si sa mai, se si gioca il titolo fino alla fine potrebbe anche lasciare qualcosa in Europa League, vedremo comunque un Liverpool che è uscito anche dall'FK appunto settimana scorsa e quindi rimane con meno obiettivi del quadriplete che poteva sognare di fare, ma non riuscirà appunto a fare per questo motivo. Arsenal, prima posizione, 28 giocate, ovviamente prima posizione insieme al Liverpool, tutte e due hanno 64 punti, 28 partite giocate appunto anche per l'Arsenal, 20 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte, 70 gol fatti, 24 subiti, quindi miglior attacco e miglior difesa appunto l'Arsenal, 70 fatti, 24 subiti, 5 vittorie nelle ultime 5, l'Arsenal che se non lo butta nel cesso come l'anno scorso per me può veramente ambire quest'anno a vincere il campionato che appunto l'anno scorso ha buttato alle ortiche. Questa squadra e insieme al Liverpool City si giocherà nel titolo fino alla fine, ditemi voi nei commenti secondo voi chi lo vincerà alla fine, chi retrocederà, sono curioso, se vi è piaciuto il contenuto io me lo auguro, iscrivetevi al canale, attivate la campionata, mettete mi piace, condividete, commentate, lasciate tanti like, tanti commenti se volete che magari quando si può lo si porta, questo contenuto ovviamente sempre quando non ci sono le altre perché se no diventa un massacro, già io per fare il recap di IDB la domenica e lunedì faccio il doppio carpiato quindi grazie a tutti per aver visto il recap di IDB in tanti tantissimi, vi ringrazio veramente di cuore, sono i contenuti che mi piace di più portare quindi vediamo anche come va questo, è un esperimento, magari va male, magari va bene, intanto ho parlato della cosa del campionato che mi piace di più di tutti dopo la Serie A, indi per cui sono comunque contento, vi abbraccio, ci vediamo con il post partita delle amichevoli della Nazionale, rispondete in community al post sulle domande perché farò un video dove rispondo a tutte le vostre domande, l'ho messo su Instagram, l'ho messo appunto qui su YouTube, vi aspetto numerosi, ciao, alla prossima, la vostra volta, iscrivetevi e lasciate like, mi raccomando, ciao ciao! Ciao!